e tra i presepi più particolari mai visti prima d'ora questo realizzato come provate a immaginare con la buccia della provoletta ma quanta fantasia avevate mai visto un presepe del genere unico mai visto prima d'ora e ci troviamo all'interno di palazzo san leo di sinagra dove sono tantissimi i presepi contenuti qui al suo interno come questo dell'ottocento con queste statue ritrovate qua di fronte nel giardino e vi sveliamo il numero quanti presepi artistici vi sono qui 100 e condividete il video se vi piace particolarmente se amate i presepi se amate l'arte se amate l'originalità e le idee che nel produrre questi capolavori artistici non sono certamente mancate grazie grazie O questo direttamente dentro ha un televisore. Questo realizzato con il vetro, davvero uno più bello dell'altro, oltre 100 capolavori. Grazie. 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 Fateci sapere anche da dove ci state guardando e fateci sapere soprattutto se avevate mai visto presepi simili. Grazie. 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 Ma sono tantissimi altri che vi sveleremo nei prossimi video. Seguiteci anche sulla pagina Facebook di Bella Sicilia, su Onda TV, canale 75, per vedere tutto il viaggio nel suo complesso.